Ehi, ma stavamo camminando! Perché ti sei fermata, Marcella? Perché c'è una quercia. Sono molto sensibile a questo albero antico, che nella tradizione nativa europea è stato l'albero sacro nella cultura celtica, è l'albero di Giove, l'albero della forza, l'albero del radicamento, ed è anche il simbolo di Ecopsyche. Abbiamo una foglia di quercia nel nostro simbolo della scuola di psicologia. Sono alberi a cui in qualche modo è molto attenzionante, mi piacciono. Mi piacciono, mi sento come costegno, come ispirazione, come canale per memorie antiche, come indicazione per quello che è necessario fare e creare, anche in questo nostro presente, per risvegliare in tante persone, quell'amore per l'ambiente naturale che ce l'abbiamo dentro. Perché noi abbiamo vissuto come specie umana migliaia, centinaia di migliaia, tra milioni, se prendiamo anche genere, in natura. Questa è la nostra casa. E molta sofferenza nasce proprio solo dal fatto di averlo dimenticato. e quando andiamo in natura stiamo bene. È vero, stiamo bene per mille ragioni che oggi la psicologia ambientale ci spiega. I fitoncidi, la scarica dell'elettricità statica, il bagno di azzurro e di verde. Stiamo bene perché torniamo a casa. Questa è la vera ragione. Ci rimetti in contatto con chi profondamente si ama. Grazie.